Credo che siano stati dei contributi molto importanti anche perché ci aiutano poi anche a sviluppare quelle che possono essere anche delle contromosse. Già sono state accennate in alcuni interventi la necessità di riprendere pratiche radicali, di disobbedienza ma anche riuscire a narrare maggiormente quella che è la pratica quotidiana che viene fatta dalle associazioni, dal basso, dalle organizzazioni, dalle cliniche legali, dall'attivismo in frontiera, appunto dalle persone migranti che decidono di sfidare il regime di frontiera, però provare a lanciare degli spunti e anche a dirci chiaramente però quello che non ci va più bene di fare, cioè quello che non funziona, dobbiamo anche avere il coraggio di dire le cose che non funzionano, quelle cose che in fondo diventano una ritualità che non aiuta in realtà a un movimento a crescere, non aiuta un protagonismo di nessuno ma che semplicemente mantengono un po' la situazione, lo status quo. Quindi ecco, vi invito, partirei da Silvia, poi chiedo anche a Bintu e Luca e Enrica di chiudere così. Anche rispetto a quello che è stato detto fino adesso, penso che innanzitutto vada ripetuto ancora una volta che appunto la lotta è quotidiana e appunto deve essere portata avanti ogni giorno, non soltanto davanti a questi grandi stragi, è vero che anche la narrazione su quello che accade alle frontiere, su quello che accade in mare, le immagini che arrivano, il discorso, porta alla rassegnazione, porta alla suefazione perché siamo abituati a vedere questa violenza, però io credo che appunto, vabbè, lo sappiamo, quando c'è un confine necessariamente c'è anche una resistenza rispetto a questo, cioè i confini, l'abbiamo detto finora, non sono impermeabili, comunque sono sempre porosi, attraversabili e lo possono raccontare sia chi lavora appunto sulle navi di soccorso, sia in primo luogo le persone che migrano, sia le persone che appunto li contestano. E quindi una cosa fondamentale sicuramente è continuare a stare sulla frontiera, cioè la frontiera deve essere monitorata costantemente, bisogna starci, raccontarla, viverla e provare il più possibile appunto a decostruirla anche con i privilegi che noi abbiamo. E in questo senso mi sento appunto, diciamo, di sottolineare quanto sia davvero radicale le forme di alleanza femminile, anche rispetto a quello che appunto introduceva Enrica, che si costituiscono sulle frontiere, no? La prospettiva femminista è fondamentale, ma anche perché spiega, attraverso una nuova narrazione, e a proposito appunto di rappresentazione, qual è anche il ruolo delle donne che vivono le frontiere in qualche modo? E quindi penso inevitabilmente per esempio alle madri tunisine, che appunto costantemente mettono in discussione il regime di frontiera nelle piazze tunisine, così come le madri algerine, marocchine, le madri del Centro America, che hanno costruito, per esempio, sempre tornando alla Tunisia, un rapporto di collaborazione anche con le donne di Medenine, le donne che vivono nel sud tunisino, che hanno costituito appunto la realtà di free fam, e che quindi hanno messo insieme quello che è vivere la frontiera, non soltanto in quanto migranti o non migranti, ma anche in quanto donne, e questo appunto è l'elemento, diciamo secondo me, molto più nuovo, molto più radicale rispetto ad altri. E quindi appunto secondo me seguire anche, attenzionare, dare visibilità a queste forme di lotta, di costruzione di memoria è fondamentale, anche perché, come ci ha detto Bintu e insomma come ci ha raccontato Amara nel video, queste esperienze permettono non soltanto di denunciare quello che accade alla frontiera, dalla prospettiva delle donne, ma anche di costruire spazi autogestiti, di aggregazione, di resistenza rispetto all'oppressione, di emancipazione economica, perché free fam è anche un progetto tramite cui le donne possono in qualche modo liberarsi da tutta una serie di forme di schiavismo, anche legate al lavoro e allo sfruttamento. Quindi ecco, diciamo su questa linea penso che lascerò parlare Bintu perché sicuramente ha molto più da dire. La mia maniera di vedere questa luce è che ho deciso di raggiungere le donne migranti e fare un atelier e lavorare insieme. Io lavoravo a casa con le donne migranti, come avevo delle macchine, quindi abbiamo lavorato insieme per poterciare, resistere per poterorrciarsi consolidare, non solo come sono traiti e maltraiti, ma almeno hanno un mese di riferimento per poterciare erano i suoi sui. È una maniera di luttare contro la violenza fatta alle frontiere. Ecco, è la mia maniera. La mia maniera in Tunisia per lottare contro tutto questo, per lottare contro le frontiere nella città di Medellin è stato quello di insieme alle altre donne migranti tunisine creare un gruppo femminile che lavorava attorno a un atelier di cuscito, il progetto Free Fam. E in questo modo non soltanto abbiamo potuto resistere insieme contro quelle che erano le violenze e i maltrattamenti che subivamo sulla nostra pelle ma anche consolidare insieme una maniera di stare insieme contro questo e quindi questo è stato uno dei modi con cui ho potuto resistere in Tunisia. Ed è da questo che è nato Free Fam, che abbiamo creato Free Fam. Che è molto interessante quello su cui si discute perché c'è un primo grande nodo, io penso che noi dobbiamo sentirci dentro un flusso, cioè non concentrarci solo sullo specifico di quello che facciamo e deve esserci lo specifico perché stiamo parlando di pratiche, non stiamo parlando di discorsi, non stiamo parlando di teorie che sono appunto legate a un'utopia senza progetto. Qui c'è proprio una pratica di un altro mondo, cioè è una pratica e sono pratiche, mille pratiche, che nascono e crescono dentro questa dinamica impositiva, questa dinamica di potere che si scaglia e che vuole ordinare tutto dall'A alla Z e qui ci sono gli errori nella matrice. E quindi è una dinamica in cui noi dobbiamo sentirsi innanzitutto, ognuno di noi, dentro un flusso che è globale, che non è italiano, che non è mediterraneo, che non è ucraino, che non è del Niger, ma è globale, noi stiamo dentro questa dinamica qua, queste pratiche globali hanno bisogno quindi di una teoria cospirativa, abbiamo bisogno, queste cose qua che ci stiamo dicendo, di sistematizzarle, di costruirle dentro una dinamica che non è tra virgolette armonica, facile, senza contraddizioni, senza rischi. Quando noi abbiamo preparato la nave, voi lo sapete molto bene, il 3 ottobre è uscita la nave del 2018, ma noi l'abbiamo preparata di nascosto la nave, perché c'era Salvini al governo e ci avrebbe fermato prima, abbiamo preparato di nascosto, lavorato de notte, siamo usciti, abbiamo passato le 12 miglia delle acque nazionali e lì abbiamo annunciato che esistavamo e che quella sarebbe stata la nostra pratica. Cosa voglio dire? L'elemento cospirativo, dobbiamo abituarci ad averci a che fare, cioè non è un tema, un orpello ideologico, e questo lo si impara dalle pratiche di chi? Di chi migra, dalle pratiche di chi oltrepassa i confini, si fa di notte, si fa sabotando per esempio le macchine fotografiche, le trappole per le persone che passano e vengono segnalate poi alla pattuglia di polizia che li corri dietro, detto questo, noi tutti siamo coinvolti, perché faccio un esempio, la nuova discussione, il decreto dopo la strage di Cutro, un CPR in ogni regione. Cosa vuol dire un CPR in ogni regione? Vuol dire una galera dove vengono rinchiusi per 18 mesi delle persone che non hanno commesso alcun reato, non hanno nessun motivo di stare dentro quella galera, che saranno disseminate in giro per le regioni italiane. Tra cui un punto importante per loro, l'hanno annunciato, Lampedusa. Lampedusa è un palcoscenico di una, tra virgolette, dinamica costitutiva per loro, di un regime. Allora, dentro a questo meccanismo qua è chiaro che noi dobbiamo abituarci anche al fatto che tanti fratelli e sorelle hanno bisogno di essere aiutati a non farsi prendere la polizia. Cioè, dobbiamo organizzarci tutti quanti, non è che quelli che vanno in mare, quelli che vanno lungo la rotta, eccetera, ma qui c'è un tema dentro le nostre città. L'Italia è un paese di transitanti, per esempio. Dobbiamo aiutare a prendere un treno, a prendere un autobus, a arrivare a 20 miglia. Dall'altra parte, guardate, le pratiche di questa cospirazione del bene si stanno diffondendo. Dall'altra parte ci sono gli sciatori solidali che percorrono i sentieri pieni di neve per impedire che le persone muoiano perché stanno attraversando il valico. 36.000 all'anno lo attraversano. Cioè qua è già una realtà, bisogna che ci organizziamo. Sentiamoci tutti parte di questa cosa e organizziamoci. E non sarà facile, perché avremo scontrarsi con questo tipo di potere, come ci insegnano i migranti, non è una cosa a costo zero, ma dobbiamo essere disposti a metterci perché ci crediamo che si può costruire qualcosa di diverso. Non è accettabile questa roba qua che ci propongono, che ci impongono. Bisogna organizzarsi in quello, quindi non in termini ideologici, con le pratiche concrete. E ultima cosa che dico, questo che cosa ci dice? E qui il pensiero femminile, femminista è fondamentale. Non abbiamo bisogno di militanti, abbiamo bisogno di forme di vita, abbiamo bisogno di modi di vivere diversi, in cui queste cose qui che facciamo non sono l'eccezionalità, il leader, eccetera. No, ma sono una pratica dentro il modo di vivere, dentro questo mondo qua, che costruisce un altro mondo possibile. Abbiamo bisogno di forme di vita, perché non può essere così distaccato come noi viviamo da quello che noi, tra virgolette, pensiamo quando ci troviamo in assemblea. Perché se no non funziona. Questo ci dicono anche le esperienze di lotta straordinarie delle persone migranti. Che scavalcando quei confini è la forma di vita che viene imposta rispetto a un destino già scritto, rispetto alla morte già decretata. E allora anche noi dobbiamo assumerci questa roba qua. E non importa dove siamo, cosa facciamo, che tipo di pratiche scegliamo, dove possiamo dare una mano. Bisogna sentirlo dentro. Questo su questo. Hanno paura. Loro possono avere i soldati, ma noi possiamo avere il cuore. Alla prossima. Grazie. Grazie. Volevo aggiungere una cosa rispetto alla Tunisia. Quando ero in Tunisia ho organizzato delle manifestazioni contro l'OIEM insieme a delle donne incinte che si trovavano fuori dall'OIEM e che soffrivano perché erano stati negati loro i diritti, il ticket alimentare, hanno rimasto fuori dal centro, quindi non erano accolte. In queste manifestazioni c'erano tantissime donne e a causa di questo io sono stata poi minacciata dalla polizia tunisina e quindi se bisogna lottare bisogna essere tutti quanti solidali gli uni con gli altri. Grazie Vito anche per questa cosa molto bella che ci hai raccontato. Vabbè io sulla domanda di Stefano provo a dire delle cose. Naturalmente Luca ne ha già dette tante e importanti perché davvero abbiamo bisogno di pratiche, già ne abbiamo ancora di più. Abbiamo bisogno di pratiche, abbiamo bisogno anche di visioni, non come distinte dalle pratiche ma come distinte dalle soluzioni. Le soluzioni a noi non ci interessano, soprattutto quella roba lì che loro vendono come soluzione fermare le migrazioni. Ma cosa? Ma questa non è una soluzione, questa è morte. Non puoi fermare le morti in mare pensando che stai fermando le migrazioni perché questo porta solo morte e poi soprattutto non ci interessa. Non è e non sarà mai la nostra di pratica. Perché a parlare di libertà di movimento oggi qui è stata innanzitutto Bitu. Sono le persone che partono che ci parlano di libertà di movimento, che scrivono, riscrivono quelle mappe del mondo come hanno fatto su confine. Allora, visioni. Le visioni ci servono. Ne provo a dare un paio. Una, qui abbiamo detto che Cutro e la nave Pilos sono stragi di Stato, ma sono anche stragi dell'Europa. E il fatto che questo accada in Italia, in Grecia, ce lo mostra. Noi siamo stati a Genova, con Luca, con tanti di questa generazione e quella dopo, visionari di un'Europa diversa. Forse però l'abbiamo vista un po' corta, l'abbiamo avuta un po' corta questa vista, perché forse oggi guardare al Mediterraneo è diventato fondamentale. Guardare al Mediterraneo, guardare ai barcani, guardare a quella dimensione globale che poi è anche la dimensione in cui ci costringe la vita. Perché poi la guerra ai migranti, oggi è anche guerra alle risorse, guerra sull'energia e così via. E io penso che in questa visione, ce l'ha detto appunto il ruolo di quello che sta succedendo nel Mediterraneo fondamentale, oggi all'Arfon fa un lavoro pazzesco con la sponda sud del Mediterraneo e penso che questo debba sempre di più diventare il nostro orizzonte. Ma c'è anche uno spazio di azione nazionale che sempre quel movimento un po' si è perso. Pensavamo che non fosse più importante pensare a cosa succedeva e ad esempio per anni noi abbiamo parlato di migrazioni senza parlare di cittadinanza. Oggi la lotta per dare la cittadinanza a tutte e a tutti i bambini, a tutti che nascono qui, che vanno a scuola qui, che crescono qui, che appunto vivono qui, io penso che sia un'altra delle questioni fondamentali. Perché questa violenza dei confini è anche violenza epistemica, è anche violenza che ci dice che ci sono vite che valgono meno ed è una violenza che giustifica questa che ormai è una discriminazione insopportabile. Allora io penso che questa sia un'altra di quelle pratiche, di quelle lotte su cui c'è stata ben poca radicalità e su cui forse dobbiamo cospirare, come diceva prima. Grazie.